Musica Videonews di giovedì 16 novembre, i titoli Sciopero generale del 17 novembre di CGL e Will a livello nazionale 5 le piazze coinvolte nelle marche Presentata la consegna dei lavori per l'efficientamento energetico del Palazzo del Genio Civile a Macerata Su Spotify è disponibile il podcast dedicato alla vita di Claudio Claudi, promosso dall'omonima fondazione E nello sport ci occuperemo anche di volley, la lube Civitanova si rialza all'Eurosuole Forum vincendo 3 a 0 Ben trovati anche quest'oggi all'appuntamento con il nostro Videonews 5 piazze, 5 manifestazioni e un'unica grande protesta contro una legge di bilancio ritenuta inefficace Per fermare il drammatico impoverimento di lavoratori e lavoratrici, pensionati e pensionate e che non offre futuro ai giovani Si svolgeranno domani 17 novembre a Iesi, Pesaro, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno I presidi e i cortei dei lavoratori che aderiscono allo sciopero generale indetto da CGL e Will a livello nazionale Nelle marche saranno appunto interessate le 5 province A Macerata la manifestazione sarà in piazza Cesare Battisti dalle ore 9.30 dove si terrà il comizio alla presenza di Lara Ghiglione, segretaria nazionale CGL Dopo le difficoltà che i lavoratori e pensionati stanno subendo a causa dell'aumento dell'inflazione ci si aspetta una legge che consentisse di recuperare qualcosa su questo fronte ma così non sembrerebbe, come afferma Giuseppe Santarelli, segretario generale della CGL Marche Il Cosmari comunica che, in seguito appunto allo sciopero generale nazionale proclamato da CGL e Will per l'intera giornata di domani potrebbero verificarsi disagi nei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti Non potendo prevedere l'adesione allo sciopero Cosmari invita comunque i cittadini ad esporre rifiuti secondo le consuete modalità della raccolta domiciliare porta a porta La Presidenza e la Direzione aziendale stanno predisponendo servizi suppletivi per evitare problemi ed eventuali raccolte mancate Comunque si invitano gli utenti, qualora il servizio di ritiro non fosse svolto a riportare i rifiuti all'interno della propria abitazione ed esporli nuovamente nei giorni successivi di raccolta come previsto dal consueto calendario Cosmari si scusa per eventuali disservizi non dipendenti dall'azienda È definitivamente rientrata l'emergenza acqua scattata nel pomeriggio di ieri dopo un incidente verificatosi durante i lavori di realizzazione della pedemontana nel territorio di Casterraimondo Il tempestivo intervento di tecnici ed operai della società ASMSPA ha fortunatamente evitato il peggio Il personale infatti ha lavorato fino a tardanotte per riportare la situazione alla normalità Difendersi da truffe e furti grazie ai preziosi consigli dell'arma dei carabinieri A Casterraimondo torna l'appuntamento pubblico di prevenzione e sensibilizzazione sul tema delle truffe e dei furti organizzato dall'amministrazione e dai carabinieri di Camerino L'appuntamento è per venerdì 1 dicembre alle ore 16.30 presso l'oratorio Verranno portati alcuni esempi e discussi alcuni consigli per evitare di incappare in raggiri e frodi così come prevenire scippi e furti grazie all'esperienza dei carabinieri sul tema L'incontro ovviamente è aperto a tutti Presentata la consegna dei lavori di efficientamento energetico e adeguamento sismico del Palazzo del Genio Civile di Macerata Scopriamo quindi di più nelle interviste del primo servizio di quest'oggi È una grande operazione sicurezza che riguarda gli edifici strategici della Regione Marche Questo è il commento dell'assessore alle infrastrutture e ai lavori pubblici Francesco Baldelli a Macerata in occasione dell'affidamento dei lavori per l'efficientamento energetico e l'adeguamento sismico dell'edificio che ospita il Genio Civile Prima volta in modo particolare qui nel capoluogo a Macerata un intervento di 3 milioni e 600 mila euro che renderà sicuro un edificio strategico della Regione una politica che in oltre 30 mesi di giunta a Quaroli noi stiamo applicando ad iniziare dagli ospedali, dalle strutture sanitarie fino ad arrivare all'edificio del Genio Civile qui a Macerata ma anche a Pesaro quindi efficienza da un punto di vista energetico edifici a consumo pressoché zero di energia ma anche sicurezza da un punto di vista sismico grazie a delle speciali tecnologie, gli isolatori che permetteranno all'edificio non solo di resistere ad un'onda sismica ma di poter continuare ad operare appunto a garanzia della sicurezza non solo degli operatori all'interno ma anche di tutti quegli interventi che in caso di emergenza questo edificio deve garantire all'esterno e quindi alla comunità della provincia di Macerata e alla comunità regionale quindi all'interno anche una forte onda sismica non verrà percepita perché verrà assorbita dagli isolatori sismici l'edificio viene separato dal terreno e viene isolato con degli apparecchi che si chiamano proprio isolatori sismici in modo che quando il terreno si muove a causa del terremoto l'edificio rimane fermo quindi l'edificio è scollegato come su dei pattini degli elementi che gli permettono di scollegarsi dal movimento del terreno questo aspetto è importante perché non solo per la parte per la resistenza, per il fatto che l'edificio non abbia dei danni ma per il fatto che all'interno si percepisce anche meno si percepirà meno il terremoto e quindi non saranno problemi anche per quanto riguarda la caduta di mobili o altri aspetti quindi la percezione all'interno è proprio come se il terremoto fosse nettamente minore di quello che è in realtà L'intervento, come diceva l'architetto Goffi oltre all'adeguamento sismico produrrà anche un efficientamento energetico importante in quanto arriviamo a un edificio Enzeb cioè No Zero Building Energy e abbiamo ottenuto un finanziamento dal GSE attraverso il conto termico abbiamo ottenuto un finanziamento importante di oltre 660 mila euro a fondo perduto proprio utilizzando questo canale questo è un discorso importante per la regione ma che in qualche modo dovrebbero utilizzare un po' tutti gli enti locali perché ci sono dei finanziamenti, ci sono e bisogna utilizzarli in modo da riqualificare energeticamente il nostro patrimonio pubblico L'ERAP è stata chiamata dalla regione Marche a collaborare per questo intervento strategico sia nella fase di reazione che di progettazione e poi l'appalto, tutte le procedure di appalto e adesso seguiremo anche l'esecuzione dei lavori quindi per l'ERAP è un fatto di orgoglio essere stati scelti da regione Marche come partner e a me come presidente grande soddisfazione anche per la qualità dei tecnici che ho trovato all'interno di questa importante istituzione marchigiana Il comitato di sorveglianza del PR Marche e del POR Marche FSE si è riunito oggi presso il Salone delle Feste del Teatro delle Muse di Ancona Il CDS è un organo previsto dalla normativa comunitaria sui fondi strutturali in cui sono rappresentati la Commissione Europea l'autorità di gestione, la regione le principali istituzioni nazionali e regionali competenti per materia e i vari stakeholder operanti nel contesto socio-economico di riferimento Suo compito principale è quello di monitorare l'attuazione del programma valutarne l'avanzamento rispetto agli obiettivi analizzarne i risultati ottenuti e nel caso fornire indicazioni per rendere più efficace l'uso di tali fondi Proprio domani 17 novembre i referenti comunitari saranno ospiti della regione per una visita presso altre buone pratiche realizzate sempre grazie ai fondi FSE e Marche per ascoltare la testimonianza diretta dei beneficiari e di quanti hanno operato per il successo delle iniziative realizzate a favore dell'occupazione, della formazione e dell'inclusione È stata presentata invece alla Camera dei Deputati la relazione sulla terza edizione di Marche Storie 2023 il festival che ha come obiettivo quello di coinvolgere i comuni e i borghi del territorio per valorizzare patrimonio e tradizioni delle Marche Far conoscere e riscoprire ad un pubblico quanto più ampio possibile come ha dichiarato il sottosegretario alla cultura Lucia Borgonzoni il patrimonio culturale custodito nei meravigliosi borghi che popolano il territorio marchigiano attraverso un ricco programma di eventi pensati per metterne in risalto la lunga storia ai suoi protagonisti davvero complimenti ai promotori di questo festival e si pensa già alla prossima edizione ripartendo dai grandi numeri di quest'anno snocciolati dall'assessore regionale alla cultura Chiara Biondi quest'anno con il festival abbiamo puntato sulla qualità e questo ci ha premiato con i numeri che abbiamo raccolto e le presenze che sono state quasi 30.000 in un periodo concentrato dal 1 al 17 settembre sono prospettive poco rassicuranti quelle relative al tumore al pancreas secondo le proiezioni la patologia si candida a diventare la seconda causa di morte per neoplasia a livello mondiale entro il 2030 con una stima di oltre 560.000 casi al mondo nel 2025 un quadro che è confermato purtroppo dal progressivo incremento dei numeri anche nel nostro paese secondo i dati dell'Associazione Italiana Registro Tumori sono state circa 14.500 nel 2022 le nuove diagnosi in Italia in aumento rispetto agli anni passati la ricerca ha fatto alcuni passi importanti oggi infatti sappiamo che alcuni gruppi di persone sono più a rischio di sviluppare la malattia per familiarità o perché sono portatori di mutazioni a geni studi recenti dimostrano inoltre che la presenza di diabete di recente insorgenza o di vecchia data non più ben compensato con la terapia in uso dal paziente è un altro importante fattore che deve allertare chi segue il malato ed una scrupolosa valutazione del pancreas tornano gli incontri dedicati alla prevenzione ai sani stili di vita al centro medico Blue Gallery patrocinati dal comune settempedano sabato 18 novembre dalle ore 10 la sala convegni di via Ferranti nella zona industriale di Taccoli ospiterà ad ingresso gratuito e fino a disaurimento dei posti la conferenza osteoporosi la ladra silenziosa è una malattia sistematica dell'apparato scheletrico caratterizzata da una bassa densità minerale e dal deterioramento della microarchitettura del tessuto osseo con conseguente aumento della fragilità ossea e aumentato rischio di frattura per traumi anche minimi si stima che l'osteoporosi sia molto diffusa a livello globale e che nel nostro paese colpisca circa 5 milioni di persone di cui l'80% sono donne in post-menopausa è disponibile su Spotify la serie in formato podcast realizzata dalla Fondazione Claudi di Serra Petrona che ripercorre in modo originale la vita di Claudio Claudi ne abbiamo parlato in studio con uno dei creatori Gabriele Codoni scopriamo quindi cosa ci ha raccontato nel servizio che vi proponiamo è con piacere che ospitiamo quest'oggi nei nostri studi Gabriele Codoni nelle vesti in questo caso di regista del nuovo podcast che sta per concludersi dedicato in questo caso interamente alla vita le opere di Claudio Claudi Gabriele vogliamo raccontare a chi ci sta seguendo chi era Claudio Claudi la domanda è sicuramente molto impegnativa il titolo del podcast è Claudio Claudio un umanista del secolo breve che potete vedere dietro è l'idea che Claudio abbia giocato tutta la sua vita tutte le sue opere tutte le sue conoscenze con quelle che sono le umane lettere e quindi possiamo dire che è un intellettuale che ha cercato di dire io in un secolo che è molto particolare che si è concluso da poco che è un intreccio di emozioni di tradizioni di culture Claudio sicuramente questo lo dimostra e se avrete modo di ascoltare il podcast emerge proprio tutta questa necessità di scoprire se stesso ecco io ti direi questa cosa qua dove può essere ascoltato quindi? lo potete trovare per adesso su Spotify che è la piattaforma da cui dopo forse partiranno anche la diffusione in altre in altre piattaforme va dipendente soprattutto alla diffusione di podcast principalmente adesso Spotify e diversi gli attori e soggetti coinvolti nella realizzazione di questo bel lavoro assolutamente ci sono io che ho scritto i testi e l'idea mi è venuta guardando la performance che abbiamo fatto la sera dell'inaugurazione della mostra insieme all'altra curatrice che è il De Cipolletti e il lavoro è emerso dalla visione delle poesie di Claudio e messe in musica da Serena Brami da Giulia Merelli da Monica Del Carpio e dalla collaborazione importantissima con lo studio di registrazione di mixaggio ma che è anche artista che è Frank Micucci in Ganabati Studio insieme poi anche al supporto naturalmente grafico di Pamela Natalini è stato un incrocio e un intreccio e un incontro di tante professionalità tutte quante però accomunate dalla passione per la bellezza otto episodi gli ultimi due stanno per uscire nelle prossime settimane che ripercorrono un po' tutto quello che è sintetizzato nella mostra inaugurale che è ospitata tutt'oggi a Palazzo Claudio assolutamente sì è stata una mostra inaugurata per i 50 anni della vita di Claudio una mostra che non è tanto o semplicemente come ha voluto anche fortemente l'architetto una fumossa biografica ma è innanzitutto un percorso immersivo perché c'è tutto un lavoro con gli odori con tutte quelle che sono anche le attività perché lo spettatore mentre viene a guardare qualcosa è attivo anche perché è l'unico modo di conoscere la fondazione Claudio si è occupata in più occasioni di approfondire tutta la vita di Claudio lo è stato fatto anche all'ultimo festival d'estate assolutamente sì una delle missioni principali della fondazione Claudio è sicuramente la ricostruzione scientifica e filologica filosofica comunque di tutta la personalità di Claudio anche il rapporto con enti preposti che sono le università e ricordiamo che esattamente qualche mese fa al festival d'estate è stato presentato il secondo volume dedicato alla ricostruzione del pensiero di Claudio dedicato soprattutto alla parte dei racconti edito da Giovanna Lullo grazie alla collaborazione con l'università degli studi di Macerata la professoressa Carla Carotenuto sì c'è stata un'anteprima lo scorso anno proprio in occasione del festival d'estate state per mettere in scena un nuovo spettacolo teatrale sì assolutamente scritto da Giulia Marelli io ho naturalmente fatto la supervisione scientifica Claudio è stato interpretato da Giacomo Rosselli ed è stato interessante perché anche questo spettacolo non pensavamo così tanta partecipazione perché in verità c'erano quasi un centinaio di persone l'abbiamo abbiamo fatto quindi due repliche non ci aspettavamo tutta questa gente e l'idea è stata quella di recitare in mezzo alle persone e quindi l'abbiamo fatto all'interno di una delle stanze del Palazzo Claudio la foresteria che non è aperta al pubblico però diciamo che si è prestata molto bene a quello che è un palcoscenico teatrale e dopo questo podcast avete pensato anche di una sorta di idea regalo natalizia davvero particolare ce la vuoi svelare? assolutamente sì dai sveliamola visto che ormai siamo in procinto delle feste natalizie sì Serena Abrami insieme a Frank hanno grazie anche alla fondazione hanno deciso di raccogliere tutte le sette canzoni con cui si concludono gli episodi del podcast e di poterle ascoltare direttamente su Spotify a chi ti senti di consigliare quindi l'ascolto di questa intera serie? a tutti quelli che vogliono scoprire la bellezza delle nostre terre delle marche una terra che come diciamo nel podcast ogni marchigiano odia e ama le sue colline tutti quelli che si sentono un po' un po' come leopardi e tutti quelli che amano la storia la filosofia la cultura non intesa come qualcosa da museo in questo caso museo utilizzo con l'aspetto un po' di 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 ammuffito di chiuso di regatolino ma qualcuno che intende la cultura ancora come qualcosa di vivo quindi ultimamente ai giovani io se dovessi adesso distinto ti direi anche a tutti i ragazzi per farvi vedere che il punto non è riuscire nella vita ma il punto è giocarsi la partita che giorno per giorno uno ha che la vita ti offre perché da umanista l'uomo umanista è colui che si prepara si costruisce ed è sempre pronto a migliorarsi quindi direi a tutti quelli che hanno a cuore se stessi l'evoluzione dell'agriturismo passa da una maggiore consapevolezza conoscenza e professionalità anche alla luce delle opportunità introdotte dalle nuove leggi che regolamentano il settore certo occorre strutturarsi e proprio per questo Terra Nostra Marche l'associazione che riunisce gli agriturismi di Col Diretti ha incontrato ad Ancona le aziende per ascoltarne le problematiche promuovere un territorio passa per l'azione del singolo operatore nel proporre ai viaggiatori un'esperienza turistica fatta di autenticità oltre a proporci insieme a chi non ci conosce dobbiamo anche portare le singole imprese a strutturarsi per offrire servizi adeguati a chi viene perché ogni turista soddisfatto diventa un testimonial grande partecipazione all'evento organizzato alle case di macerata al quale hanno preso parte i soci di ben nove club Rotary da un'idea di Stefano Clementoni l'iniziativa è stata organizzata da Rotary Camerino l'incontro è stato ospitato da Rotary Macerata Matteo Ricci hanno partecipato anche i club Altofermano Sibillini Camerino Civitanova Foligno Loreto Macerata Osimo e Tolentino presente anche il governatore del distretto 2090 Gesualdo Ari e L'Angelico con l'incontro si è riusciti a mettere insieme tanti club e portare delle esperienze per far conoscere ai Rotary cosa c'è fuori dal club che c'è un network internazionale che permette di fare la differenza ed essere qualcosa di diverso rispetto alle altre organizzazioni la facciata del municipio della città di San Severino in Piazza del Popolo sabato prossimo si illuminerà di bianco in segno di adesione alla campagna Illumina Novembre dedicata alla lotta alle neoplasie polmonari l'amministrazione ha così deciso di aderire all'iniziativa promossa da Alcasse Italia e destinata a far conoscere il cancro al polmone per accrescere la consapevolezza su tutto ciò che questa malattia comporta Illumina Novembre è una versione italiana del CAM il Mese Internazionale di Sensibilizzazione al Cancro al Polmone una patologia di cui si parla sempre troppo poco e superficialmente In discusso maestro del Teatro Europeo Antonio Latella firma la regia della Locandiera al Teatro Rossini di Pesaro e all'Auro Rossi di Macerata il 21 e 22 novembre nelle stagioni teatrali realizzate dai rispettivi comuni con l'AMAT testo tra i più fortunati e rappresentati di Goldoni secondo Latella è una grande operazione civile e culturale un manifesto teatrale che dà inizio al Teatro Contemporaneo con protagonista Sonia Vergamasco Vediamo invece ora le previsioni meteo per domani e dopo una breve pausa pubblicitaria le notizie sportive Previsioni per venerdì 17 novembre Nella prima parte della giornata cielo parzialmente nuvoloso Nel pomeriggio rovescio temporali sparsi sulla fascia costiera e collinare Temperature minime in aumento e massime stazionarie Venti forti sud occidentali con raffiche fino a Burrasca nella prima parte della giornata mare poco mosso con moto ondoso in aumento in serata